La sua chance di riuscire a sfondare non sarà facile, ma il tempo a disposizione per la presentazione è già finito, quindi va in partenza la quinta corsa di Palermo. Quinta corsa di Palermo, anziani di categoria G sulla breve distanza, l'unica corsa nazionale del pomeriggio, si va allo stacco, il primo stacco che avviene in questo istante è che vede l'ottima partenza di Narbona Jet al cui esterno dalla seconda fila filtra Paz Ferm che col 14 addirittura in meno di 200 metri è praticamente al comando. Questo lancio è naturalmente veloce e dire che fra l'altro tutto sommato Paz Ferm aveva un numero in meno dalla seconda fila, quindi non aveva neanche la linea esterna, però se l'è presa. Ed eccola là, al comando, all'uscita della prima curva, sta avvicinandosi per l'ina esterna la favorita al gioco, il numero 10 Procida, 1,87 la quota, cavalla che da tempo non fa risultato ma che ha svolto qua la favorita, una notevole prova di riqualifica, primi 600 metri piuttosto svelti in 43 e mezzo con Procida che evidentemente vuole confermare la sua buona riqualifica e assume il comando delle operazioni a traguardo lontano quando i cavalli stanno percorrendo la penultima curva 59 molto scarsi i primi 800 metri con Procida e Paz Ferm poi Narbona Jet in terza posizione, tutti molto allungati perché si sta andando davvero molto forte 1,13 e qualcosina al primo chilometro con Paz Ferm poi il 5 di Narbona Jet, il 2 di Pure Starlight mentre c'è l'errore di Poseidon R, se non l'abbiamo visto male si trattava di Ormone dei Fiori, quindi anche Ormone dei Fiori è andato a tabellone mentre Procida ha preso ormai vantaggio incolmabile nei confronti di Paz Ferm sul quale Alquisulchi si dimena, Cosimo Cangelosi anche in Narbona Jet appare molto stanca e quindi potrebbe essere Poseidon R all'esterno a venire avanti con molta grinta per la piazza nei confronti di Paz Ferm che comunque resta ancora in linea nel frattempo Procida va a vincere nettamente, seconda ancora, poi Sodeno R, terza Paz Ferm avvito dunque la favorita, sul mio cronometro un tempo attorno all'1,14 forse anche un filino meno per Procida Gaspare Loverde al triplo in giornata, complimenti a Gaspare che è tornato a mettere in moto le sue vittorie a Raffica colori della Bimag SRL, doppio in giornata anche per la scuderia, training di Francesca Croce, triplo come allenatore quota di 1,87, secondo posto per Poseidon R, terzo posto per Paz Ferm in numeri 10, 8, 14 l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso della quinta corsa di Palermo Grazie a tutti